buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz ben ritrovati come sempre alla rubrica caffè e mercati un saluto come sempre da riccardo zago buon inizio di settimana tutti quanti andiamo come sempre a fare la nostra panoramica sui mercati ricordando però che questa sera alle ore 18 c'è il webinar del lunedì insieme a luca di scacciati che presenterà il suo nuovo indicatore che poi regalerà anche a tutte le persone che hanno un conto con il broker kimura trading detto ciò però andiamo a vedere come iscriversi al webinar di questa sera alle ore 18 e poi facciamo un recap delle posizioni che abbiamo chiuso prima del weekend e quali sono magari anche i trade da fare quest'oggi andiamo allora subito sul sito eccoci qui andiamo nella sezione appuntamenti come ogni lunedì il webinar del lunedì è gratuito ed è sempre alle ore 18 quindi vi aspettiamo numerosi andiamo però ora andiamo subito sulla piattaforma del broker kimura trading ricordando che eravamo posizionati short proprio venerdì l'ho detto in diretta proprio la rubrica caffè mercati short da questo livello 84 e 80 il primo obiettivo anzi l'obiettivo finale erano i minimi precedenti venerdì in tardo tardo nel tardo pomeriggio abbiamo deciso di chiudere su questi minimi proprio perché si avvicinava il weekend non volevamo lasciare delle posizioni aperte in piattaforma eravamo molto vicini al target price e quindi abbiamo chiuso definitivamente la posizione che cosa facciamo però ora attenzione la nostra view rimane comunque ribassista attenderemo però la rottura del supporto che vedete qui in area 83 e 40 per entrare short con obiettivo sempre ambizioso in area 81 e 50 andiamo avanti perché dopo nz di yen prendiamo anche euro franco anche qui abbiamo chiuso sui massimi venerdì pomeriggio la nostra view non cambia siamo sempre rialzisti valuteremo un long al primo momento di debolezza per poi puntare sempre ai massimi di periodo eccoli qui in area 1 0 33 e 80 e successivamente il target finale in realtà è 1 e 0 4 detto ciò però andiamo avanti perché vedete abbiamo diversi sottostanti ancora da analizzare abbiamo chiuso anche euro ud che ha raggiunto il primo obiettivo eravamo eravamo in posizione da questo livello 1 47 50 abbiamo chiuso sui massimi sempre qui venerdì e siamo usciti dalla posizione la cosa interessante però è che la candela di venerdì ci ha dato un bellissimo segnale rialzista infatti abbiamo un'ombra al ribasso anche abbastanza importante e una chiusura sui massimi di giornata quindi segnale rialzista molto molto interessante anche qui valuteremo di rientrare in posizione con obiettivo 1 52 e 50 andiamo a commentare anche quello che è stata la chiusura settimanale del gold il gold ha chiuso la settimana scorsa al di sopra del 61,8 per cento di fibonacci prendendo in considerazione questo impulso e di conseguenza ha chiuso sopra il livello di 1890 un buon segnale la settimana non inizia al meglio però chiaramente dovremo attendere la chiusura rimaniamo in posizione in ottica di medio lungo termine andiamo avanti perché dopo aver visto il gold dobbiamo parlare di S&P 500 la mia view era ribassista l'avevamo detto anche nella giornata di venerdì i target sono stati raggiunti 4.160 4.140 attenzione perché siamo all'interno di un trend ribassista non è che perché l'S&P 500 è sceso molto allora adesso dobbiamo per forza comprare guardate il trend è ribassista la pressione anche candele rosse ad alta volatilità che aprono sui massimi e chiudono sui minimi mi aspetto una rottura questa settimana di questa zona supportiva e concludiamo il tutto con che cosa concludiamo tutto con euro dollaro venerdì abbiamo parlato di un possibile long non siamo entrati in posizione non c'è ancora un segnale chiaro questa mattina la candela che va dalle ore 9 alle ore 10 ci conferma il tutto di conseguenza attenderemo una rottura di questa zona che ho evidenziato compresa tra 1.05650 e 1.05750 per entrare poi in posizione come abbiamo detto con target 1.07 quindi cerchiamo di fare che cosa? cerchiamo di entrare in posizione sì contro il trend principale che invece vediamo qui sul time frame giornale però io mi aspetto un piccolo rimbalzo prima di continuare a scendere bene ragazzi direi che per oggi abbiamo visto tutto vi aspetto questa sera al webinar del lunedì delle ore 18 buona giornata e buon trading a tutti